good morning a tutti voi come vedete sono di nuovo nel mio ufficio la gmg è terminata ieri avevo il telefono scarico per cui non ho potuto caricare il vangelo del martedì oggi siamo in compagnia di matteo primo versetto allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le loro lampade uscirono incontro allo sposo cinque di esse erano stolte e cinque sagge le stolte presero le loro lampade ma non presero con sé l'olio le sagge invece insieme alle loro lampade presero anche l'olio in piccoli vasi poiché lo sposo tardava si assopirano tutte e si addormentarono a mezzanotte si alzò un grido ecco lo sposo andate di incontro allora tutte quelle vergini si destarono prepararono le loro lampade le stolte dissero alle sagge dateci un po del vostro olio perché le nostre lampade si spengono le sagge risposero no perché non venga a mancare a noi e a voi andate piuttosto dai venditori e compratevele ora mentre quelle andavano a comprare l'olio arrivo lo sposo le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa e ci fermiamo qui in questa storia un po strana no nel senso che evangelicamente siamo tutti pensa siamo tutti come dire no non mi viene l'articolo l'articolo il termine portati a pensare che se tu puoi fare qualcosa per qualcuno dagli una mano quindi le vergine sagge che hanno dell'olio con sé potrebbero condividerlo perché non lo fanno perché sta storia così complicata in cui dicono no non possiamo darvelo andate a comprarvene perché questo olio è la fede è la fede e la fede nonostante noi ce la possiamo trasmettere nonostante noi possiamo testimoniarla la fede non si dà come un goccio d'acqua con un imbuto ad altri la fede te la devi comprare con il tuo sudore ecco la fede da una parte un dono e dall'altra parte è merito della tua ricerca merito no merito forse no ecco però è frutto positivo della tua ricerca per cui nessuno te la può dare non perché è cattivo ma perché proprio e cioè è una cosa tua è una cosa personalissima per cui se tu l'hai lasciata morire l'hai lasciata spegnere e nessuno appunto te la può condividere semplicemente capite la fede è una questione singolare siamo miliardi di persone al mondo ma la fede nel dio di gesù cristo pur condividendo il fatto che noi crediamo nel dio di gesù è una cosa personale nessuno te la può versare quindi datti da fare ecco e mi fermo qua ecco le cose belle della giornata di ieri io sono tornato dalla giornata mondiale dei giovani non ho fatto appunto il vangelo di ieri perché avevo il telefono scarico siamo tornati abbiamo avuto un po di vicissitudine perché il nostro pullman si è rotto ma questa è una cosuccia è una cosuccia rispetto a quello che abbiamo vissuto e sono convinto sempre che come dire ci si accorge della bellezza della grandezza direi del miracoloso che uno ha vissuto quando tu ti fermi e arrivi a casa scendi entri in casa e dici mamma mia che cosa che è accaduto io in questa occasione e anche in altre ecco sono sceso sono entrato in casa e non avevo mica voglia di andare a dormire per cui ho trafficato perché perché ci sono certe giornate e certe giornate che non riguardano solo le 24 ore ma riguardano un po le esperienze della vita no che tu vorresti non finissero mai e allora nonostante potremmo dire un po di stanchezza fisica e quella c'è però io sono contento di arrivare a una fine di questi 16 giorni in cui ho dormito per terra e non mi sono riposato tantissimo ma io non mi sento stanco non mi sento stanco la vita è bellissima quando la condividi poi con delle persone con dei giovani poi niente ti riempie ecco e questo questo supera ogni stanchezza questo riempie il cuore la vita tutto quanto e niente mi fermo qua perché altrimenti poi mi commuovo di fronte alla bellezza che io ho vissuto e che non è merito mio e tutto merito loro io sono andato alla giornata mondiale dei giovani ne ho vissute tante ormai ma sono andato solo per stare con loro e quindi ritorno grato ma proprio grato non c'è un mondo più bello nel quale io potrei vivere che questo è quello anche di questi giovani con i quali ho condiviso questi 16 fantastici giorni alle buona giornata a tutti voi vi abbraccio e pregate per loro e per me